Da un riconoscimento tale del 31 maggio 2018, quando fu adottato il FUC, noi assumemmo l'impegno che una nuova ricontrollazione del FUC avviste attraverso un procedimento di ampia comunicazione, di partecipazione e non di ampia di condivisione. Il riconoscimento del Consiglio Comunale di questa partita, che sono stati indirizzi, tra presenti il Consigliere Giorgione Rotese e il Consigliere Fuccio, vanno nella direzione delle cose che noi abbiamo detto in questa seduta, nel senso che noi avremmo anche potuto dedicare a partecipare al Consiglio indirizzi perché il regolamento non è l'obbligo, tuttavia che ci abbiamo ritenuto che è fondamentale importante, che innanzitutto il Consiglio Comunale, le forze politiche, che sono rappresentate, possono dare un contributo di merito rispetto alle questioni che noi abbiamo fatto. che l'obbligo e che sugli indirizzi, come anche nelle sue parti successive, che vedono l'adozione e la lavorazione di una preliminare, e poi arrivare all'adozione di un nuovo FUC, ci possa essere, come dire, un'anica, io ho giunto qua, totale condivisione, perché in grattasi di un nuovo FUC unica e straordinaria importanza per la città, che sarebbe davvero un peccato, se su questo competimento e su quest'altro non ci dovesse necessario un elemento di condivisione che è auspettabile e che ciò avrebbe. Naturalmente, perché questo competimento venga condiviso, devono continuarsi da un po' più fattori. Innanzitutto ho una volontà da parte dell'amministrazione, perché ci sono civili, e soprattutto, come dire, mostrarsi anche aperti, intimamente, a queste competute che io sono certo non mangiare da parte delle proprie politiche. Il fatto che è all'attenzione del Consiglio Comunale, lo consigliano ovviamente queste, come dire, è un merito che io porto anche oggi alla struttura, al settore, in particolare, al dirigente, al territorio napolitano, perché è un altro puntuale preciso, non solo e lontano perché, come dire, descrive anche quello che è la procedura del resto e altrimenti anche le qualità del regolamento regionale, descrive quella che è la posizione della nostra città, del nostro territorio, e il punto, a mio modo di parere, al mio modo di... a mio modo di... a mio parere, il visto più significativo, e il, diciamo, il punto 6, quando parla degli obiettivi e del genere della città, della realità, e noi, come se, utilizziamo cinque obiettivi, la città pubblica, la città della trasformazione del provamento, la città della realità, la città della notte distanza della città della mobilità, Perciò naturalmente tutto si tiene insieme, quello che riguarda le aree di servizio e le aree da costruire, perché il nostro direttore purtroppo è trappato, e questo è stato almeno il 95 accendio, vuol dire già una malità costruzita di chimiei e libras, con l'intensità, quindi questo è ancora più difficile e complicato, è un lavoro che posso da fare determinato una produzione di secondo dibattito dalla nostra città, D'avvento che lo sviluppo deve essere uno sviluppo, come dire, sostenibile, compatibile, perché è come dire che scopla all'interno di un crescente patro. E' quello che è, ma io non c'è un po' che noi dobbiamo fare uno sforzo anche per ritenerciare un genere di funzioni che possa poterire alla nostra città una nuova e diversa identità che possa garantire alla nostra città un genere di funzioni e servizi, insomma, determinare anche una diversità sociale che purtroppo nel corso di questi anni è venuta a mangiare. Io mi metterei qui, perché credo che forse che ci sia anche la necessità di raccogliere studi e dimensioni che certamente non mancheranno e quindi a bambini io cercherò anche di recuperare, se si hanno d'accordo, di sentire lo spirito e il dibattito per fare in modo di, così, di inserire i tempi, che però ha comprato un corso di sfide, perché abbiamo anche una domanda di valutazione, dove avrete anche il percorso che noi intendiamo darci nel corso di questi mesi, sapendo che il tempo a disposizione è quello che è, perché la misura si fa la patria, la pastura, la vacora, per, comunque, di rischi di tutta via, noi siamo consigli di poter preferire su questi mesi a produzione del gruppo. Vorrei solo ricordare che nel corso di questi, di queste strutture che è finale, di ultimi mesi, non è mancata che mi arriva davanti se non lo sento, che lo assessorato, mettendo in campo delle incerti di ascolto, per quanto riguarda le associazioni, naturalmente questa politica di ascolto vedrà una fase di intensificazione nelle nostre strutture, anche quando noi dobbiamo preferire alla produzione del gruppo preliminario, che già diverse costituisce, come dire, un elemento ancora più completo e più certo di quello che si deve di questo nuovo momento. e naturalmente non avverranno neanche le iniziative a ascoltare dai cittadini, ai miei associazioni di cittadini, ai miei colleghi, ai miei colleghi, ai miei colleghi, e anche poi davvero disegniamo, e l'automazione di questo gruppo rossa, come viene di guardare tutti i quarti, e noi siamo certi che è una nuova parte di percorso l'indipo e trasparente, perché a noi non sfugge la dedicamenta di questo strumento, di questo potenimento, quindi in genere i comuni chiedono più di qualche giusto per la sua approvazione, e per noi da tenere una sfida nel percorso di 12 mesi, noi possiamo procedere alla situazione a più due, quattro anni e quattro anni. naturalmente è una sfida che ci appassiona anche, noi ce la scopriamo nel riscoltà, ma noi veramente preghiamo questo. Questa questione, in un ruolo ci parli, in un porto aperto, tra maggior parte della sua posizione, si possa poter dire determinare un approccio di più diverso, meno di dialogo, meno di appartenenza, perché alla fine quest'anno, quando sarà provato, sarà un altro di lui, sarà un altro della città, della città, e quindi è un altro che poi, voglio dire, può anche delineare, riscrivere il futuro della nostra città. Naturalmente, se ci pensiamo anche di poter individuare, affinché il nostro desktop, quindi è una delle delle interne reali, da destinare a una città produttiva, personale, che nel lavoro di situazione, ma non c'entrata, ma non c'entrata, perché il tema di una produttività, a cui poi, naturalmente, si venga anche il tema del lavoro, appunto, è un elemento di grande preoccupazione in questi anni, però, sopra e di essere naturalmente, la nostra città ci duccia a questa, che più assoluta. Ma voi, per dire, ecco, la città, in un uomo di essere migliore, non ci deve mai maturare, e quindi noi speriamo da sempre, che su quest'anno, che possiamo registrare, quella convergenza delle forze, quindi, dei simboli consiglieri, e quindi, come vi apprezzate, che sono stati approfati, in un uomo di 10 ore, in un uomo di grande, in un uomo di 106, in un uomo di 2, in un uomo di 309. Grazie.